Ma non so, mi sembrano veramente di livello molto molto più basso, per carità simpatici, a me qualcuno mi è simpatico, ma mi sembra così che quando parlano sono troppo populisti, mi sembrano veramente scadenti rispetto agli uomini di allora, sia di destra che di sinistra che di centro, anche la destra stessa, io sono ancora di destra ovviamente, però non vedo figure carismatiche come Almirante, io pur essendo stato sempre contro Almirante, come Rauti, come tanti altri, adesso mi possono venire altri 20, Romualdi, io l'ho conosciuto personalmente, abbiamo avuto occasione di parlarci tante volte, insomma mi sembra una differenza notoriosissima di dialettica e anche di concetti.